Vanity Fair ha pubblicato tutti i retroscena della famigerata Snyder Cut di Justice League. Andiamo a scoprire insieme le curiosità nascoste dietro al film. Prima di cominciare non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati su tutta la produzione video di Every Eye Plus. Zack Snyder si è confidato con Vanity Fair, rivelando tantissime informazioni sulla sua Snyder Cut da quando ha abbandonato il progetto di Justice League fino al ritorno in cabina di regia. Il film sarà ovviamente dedicato ad Autumn, la figlia di Snyder scomparsa durante le riprese di Justice League prima del 2017. Questo è stato il motivo principale che spinse il regista ad abbandonare il progetto, perciò la Snyder Cut si chiuderà proprio con la dedica a sua figlia. Tornando indietro, Snyder ha rivelato che prima di diventare Wonder Woman, Gal Gadot stava per tornare a Tel Aviv e persino abbandonare la recitazione. Sarebbe infatti grazie a lui se l'attrice ha deciso di continuare il suo percorso artistico, imbracciando il laso della verità sul grande schermo nei panni della principessa Diana. Durante le riprese di Justice League Snyder aveva capito che Geoff Jones e John Berg erano spesso sul set come fossero delle babysitter. I produttori della Warner controllavano quindi molto da vicino il lavoro del regista. Snyder ha ammesso infatti di non aver mai chiesto l'aiuto di Joss Whedon per ultimare le riprese. La Warner stessa, secondo un dirigente, era anche ben consapevole del fatto che Whedon non avesse fatto un buon lavoro sul cut finale arrivato al cinema nel 2017. Snyder ha continuato dicendo che quando ha lasciato il progetto ha salvato una versione provvisoria del film. Era presente sul suo computer portatile e ha detto di averlo fatto per mostrarla agli amici, ma a un certo punto ha anche pensato di pubblicarla personalmente. Nella versione originale, inoltre, Bruce avrebbe dovuto innamorarsi di Lois Lane dopo la morte di Superman, svolta che avrebbe creato sicuramente dibattito. Per quanto riguarda invece la nuova Snyder Cut, si stima che sia costata circa 70 milioni di dollari in più. Snyder, però, non verrà pagato per il film. Il regista ha anche confermato che ci sarà una sottotrama romantica tra Flash e Iris West. Ma l'elemento più importante è una rivelazione sul finale del film. Snyder, infatti, ha assicurato che ci sarà un cameo di un supereroe che, a detta sua, lascerà a bocca aperta tutti i fan. Informazioni importanti che alimentano la mitologia dietro la Snyder Cut. Ormai l'arrivo del film più chiacchierato del momento è imminente, ma sembra che si farà ancora un gran parlare della Justice League. E voi cosa ne pensate di queste rivelazioni? Vi aspettate un film davvero esplosivo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.